Era il 14 gennaio del 2018 quando ci siamo conosciuti per la prima volta all'incontro nazionale dei volontari Ampas qui a Firenze. È stata una giornata bellissima, ho un ricordo straordinario. In questi anni mi sono arrivate tante mail con alcuni volontari Ampas, sono ancora in contatto. E questo messaggio è per ringraziarvi veramente di cuore per tutto quello che state facendo, per voi che vi occupate del primo soccorso, per voi che vi occupate dell'assistenza alle persone in difficoltà, per voi che vi occupate di tutte le operazioni di protezione civile, servizi a domicilio, consegna di farmaci, spesa per le persone che in questo momento non possono spostarsi e non possono muoversi. La vostra funzione è davvero vitale per noi e ve ne siamo grati. Sento di parlare non soltanto per Daniela Morozzi ma per parlare di un'infinità di persone che in questo momento vi sono vicini e vi sono veramente grati per tutto il lavoro generoso che da anni e oggi ancora di più state facendo. Noi l'unica cosa che possiamo fare è restare a casa per permettere a voi di fare questo lavoro, per permettere a voi di donare il vostro servizio. E quindi che dire, io so che voi uscite per aiutarci, noi dobbiamo stare in casa per aiutare voi, ad aiutare noi. Grazie, vi abbraccio, vi stringo uno a uno e spero di essere presente al prossimo incontro nazionale Volontari Ampas dove finito tutto questo ci abbracceremo, ci stringeremo e ci ricorderemo questo momento come un ricordo. Speriamo che c'è migliori e che poi svanisca nelle parti più difficili e vorrei dedicarvi questa cosa piccola. Io credo che non soltanto il virus ma anche l'affettività, ma anche la creatività, ma anche l'intelligenza, ma anche la generosità siano contagiose e voi lo state dimostrando. Vi abbraccio con gioia e tanta energia che ancora non so, ma ce n'è ancora tanta e questo mi commuove tutti i giorni. Un saluto a Lampas tutta.